Continuiamo con l'esercizio sulla gestione delle officine. Prendiamo in esame il caso d'uso, inserimento, officine. Vediamo lo scenario principale. Allora, l'admin manifesta l'intenzione di inserire una nuova officina. Il sistema presenta un modulo per l'inserimento dei dati. L'admin inserisce i dati richiesti. Il sistema verifica la correttezza e la completezza dei dati inseriti. Il sistema verifica che l'officina non sia già presente. E poi il sistema registra l'officina comunicando l'esito dell'operazione. Un primo scenario alternativo si verifica quando i dati inseriti dall'admin non sono corretti oppure sono incompleti. Ho tutte e due le cose. In questo caso il sistema riscontra il problema al punto 4 e dopo aver comunicato il problema torna al punto 2, cioè torna a riproporre il modulo per l'inserimento dei dati. Secondo scenario alternativo si verifica quando l'officina è già presente. Questo si verifica al punto 5 e in questo caso di nuovo il sistema comunica il problema e torna di nuovo al punto 2, cioè ripropone il modulo per l'inserimento dei dati. Come primo step andremo a creare il form che permette di inserire l'officina, ricordando che l'officina ha un nome, un indirizzo e un telefono. Per semplificare l'attività scriveremo del codice HTML quasi praticamente puro, cioè senza andare a lavorare in modo particolare sui codici CSS. Avviamo Eclipse e creiamo un Dynamic Web Project, l'albero del progetto è quello che vedete qui, con la cartella SRC contenente due package Poison e Servlet e la cartella Web Content contenente al suo interno due sottocartelle che sono HTML e JS e poi qui il file che andremo adesso a scrivere, Insert Off, che permette di rappresentare il form per l'inserimento dell'officina. Sulla sinistra è visibile il form che vogliamo implementare, guardiamo velocemente il codice HTML, abbiamo un form il cui ID è Insert Off Form, tre campi di input, hanno tutti sia un attributo ID che un attributo name, sono tutti di tipo text, il placeholder lo vedete, e sono tutti e tre required, quindi non sarà possibile inviare il form senza aver compilato tutti e tre i campi. Abbiamo poi il button invia di tipo submit, più sotto c'è sia lo script jQuery, perché useremo jQuery e non javascript puro, sia il collegamento ad uno script custom, il cui nome è insertoff.js. Vediamo nel dettaglio lo script custom. Questo che cosa fa? Quando si verifica l'evento submit, cioè quando viene inviato il form, il cui ID è Insert Off Form, viene eseguito il codice seguente. La prima cosa è quella di prevenire il comportamento di default. Il comportamento di default per un evento submit è quello di inviare i dati al server via GET, mediante il metodo GET del protocollo HTTP. Quindi noi preveniamo questo comportamento, cioè impediamo che i dati siano inviati. I dati li catturiamo noi e li serializziamo utilizzando questo metodo di jQuery. La serializzazione consiste nell'andare a creare una stringa dove ci sono delle coppie chiave-valore separate dal simbolo di e-commerciale. Questa stringa viene poi assegnata ad una variabile di nome params. Utilizziamo poi il metodo dollaro.post.djQuery per inviare i dati in maniera asincrona utilizzando AJAX al web server. Il primo parametro specifica qual è la servlet che dovrà gestire i dati. Il secondo parametro è la stringa che abbiamo preparato in precedenza, mentre il terzo parametro è la funzione di callback. Per il momento la funzione di callback si limita a visualizzare un alert box con il messaggio officina inserita. Poi vedremo che possiamo utilizzare questo parametro data che contiene i dati restituiti dal server per poter andare a scrivere qualche cosa sulla pagina HTML che sta visualizzando l'utente. Quando inviamo un form possiamo quindi adottare generalmente questo schema. Quello che cambierà ovviamente sono i nomi degli ID e poi la funzione di callback perché a seconda dei casi si faranno cose differenti. Andiamo ora a creare la servlet. Ci posizioniamo con il mouse su servlet, poi con il tasto destro del mouse facciamo clic e selezioniamo New Servlet. La maggior parte del codice viene generato automaticamente e alcune parti le ho anche eliminate perché non servivano. Quello che ci interessa maggiormente è questo metodo DoPost. Ha due parametri, RequestResponse. In Request saranno passati i dati che abbiamo messo dentro la variabile Params. quindi troveremo i dati passati tramite il metodo dollaro.post e RequestResponse invece sarà utilizzata per inviare la risposta al client. Per il momento la servlet si limita a fare una cosa semplicissima andare a recuperare i dati che sono stati inviati e a collocarle all'interno di variabili. Quindi andiamo a prendere il nome dell'officina utilizzando il metodo getParameter. Quindi useremo il parametro Request.getParameter e tra le parentesi tonde indichiamo il valore dell'attributo name che abbiamo dato al campo del form che conteneva il nome. Stessa cosa facciamo per l'indirizzo. dove qui specifichiamo il valore dell'attributo name del campo del form indirizzo. Stessa cosa per telefono. E poi andiamo a stampare su console i tre parametri letti per verificare se l'operazione è andata a buon fine. Per eseguire l'applicazione clicca con il tasto destro del mouse sul file HTML e poi run as run on server. Proviamo. Bene. Da questa parte funziona. Officina inserita. Adesso andiamo a vedere che cosa è successo lato server. Lato server vediamo che in effetti i parametri sono arrivati e li abbiamo recuperati e stampati su console. Per verificare che i dati effettivamente ritornino al client utilizziamo uno scrittore. Allora, creiamo una variabile di un oggetto di tipo printWriter quindi un'istanza della classe printWriter poi andiamo ad assegnare a WriterResponse.getWriter e poi con il metodo println possiamo andare ad inviare i dati al server. Cambio anche questa frase in questo modo. Andiamo ad aprire lo script JavaScript e invece di utilizzare come era in precedenza la scritta officina registrata andiamo a fare un alert di questa variabile e vediamo se funziona. Lanciamo nuovamente l'applicazione e andiamo a testare. Allora, la risposta è corretta. Vediamo lato server che cosa è successo. Si può osservare che i dati in effetti sono quelli che sono stati, sono corretti sono quelli inviati tramite il form. Il passo successivo sarà quello di andare a operare effettivamente sul database che abbiamo creato. Grazie. Grazie.